cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago ben trovati al meteo pressione atmosferica stabile sul nostro territorio mercoledì 29 marzo sarà un'altra giornata asciutta vediamo insieme il dettaglio sul veneto avremo un ampio soleggiamento inizialmente con cielo sereno a seguire sarà via via più nuvoloso e anche coperto verso sera ma in genere senza piogge temperature in generale ripresa minime tra 1 e 5 gradi massime invece tra i 14 e i 17 gradi all'incirca spostiamoci ora sul friuli venezia giulia al mattino avremo un cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio aumento della nuvolosità specie sulla fascia prealpina sulla costa soffierà vento di libec temperature minime sui 3 6 gradi massime sui 13 15 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del trentino alto adige dove sarà soleggiato con qualche addensamento del tutto innocuo temperature minime intorno ai 3 gradi massime sui 17 18 gradi dal meteo di antena 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago parola che manda dal meteo ma rifaccio della città di prima qualità ci trovi a volpago questo esatto è tutto grazie per la calzizia della città di prima di attivare nel